Dopo 50 km della Fornia, direzione Itri, Madonna della Civita, il Golfo di Gaeta. Con me questa mattina c'è Giovanni, Giovanni. Sì, c'è Filippo. Filippo che è? La strada che porta a Itri da dove inizia la salita per il Santuario della Madonna della Civita. Lì in fondo è l'abitato di Itri. Sì, insieme a me c'è Giovanni e Rina. Buongiorno, dietro sta Filippo e Benedetto. Sì, insieme a me c'è Giovanni. L'ingresso di Itri, il cartello, siamo in provincia di Latina. Indicazioni stradali a destra, Ceprano 44, Pico 30, Campo di Vere 15, Santuario della Madonna della Civita. Civita e Grotta di Pastera. E qui inizia la salita che porta a Madonna della Civita, le prime rampe della salita che porta al Santuario di Tricomecista. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, eh Antonio, c'è Antonio in Pignano. Benedetto. Buongiorno a tutti. Quindi questa mattina ce la caviamo con una salita non troppo arcigna per usare i termini del nostro maestro Antonio e Marcello. Poi c'è Giovanni là dietro. Giovanni sempre da dietro. La mia presenza c'è sempre. E andiamo. Non so se si riesce a notare lassù, in fondo, c'è il Santuario che si intravede. Siamo sempre sulla salita, inizio delle rampe. E qui c'è un cartello che dice sentieri a piedi per andare lassù su quel Santuario. Si vede meglio il Santuario su una mia sinistra. E qui c'è Giovanni, di Buonalea. Arena, come va? Bene, benissimo. La salita come la trovi? Dolce. La salita al Santuario della Madonna sale in modo costante, senza strappi. Lassù si può vedere il campanile del Santuario sulla mia sinistra. Si, si intravede sempre sulla mia sinistra verso il campanile del Santuario. è quindi il campo di viaом per la destra. bellissimo panorama in fondo si può vedere il volfo di Gaeta buongiorno dove andate dove andate a spasso del mondo stavamo aspettando degli amici mancano 7 300 metri al santuario andatura dolce giornata stupenda il gruppo in compatto stupenda giornata clima ideale panorama mozzafiato ecco qui il portone l'arco che porta allo spiazzare andistante qui siamo nello spiazzale nel santuario andiamo 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 e qui ci sono pure gli altri ecco qua bellissimo panorama lì in fondo si può vedere il golfo di Gaeta andiamo davanti alla chiesa all'ingresso della chiesa la chiesa del santuario lì deve essere il campo di mele laggiù buongiorno è arrivato pure Filippo qua su c'è benedetto buongiorno a tutti sono impegnato con una comunicazione importante di lavoro giovanni giovanni andò tutto a posto tutto a posto come stai benissimo benissimo va bene